Cerchiamo di essere positivi, secondo me è un punto guadagnato perché comunque affrontavamo una squadra forte che è lo Spezia, anche se non sta vivendo la sua migliore stagione, anche per loro è stato un momento un po' complicato e difficile. Abbiamo dato tutto, secondo me, sotto tutti i punti di vista e stiamo cercando di crescere e anche cercando di seguire quello che ci chiede il mister. L'ho molto emozionato, era la prima volta che affrontavo lo Spezia da avversario, dal primo minuto diciamo, è stata una grande emozione, ma l'ho stato anche tornare a giocare qua a Bari, che era un po' che non mi succedeva, è stata una grande emozione per me, assolutamente. Quando attraversi periodi un po' complicati, è logico secondo me giocare con un pochino di paura, diciamo un po' di freno a mano tirato perché pensi sempre al peggio. Siamo stati comunque bravi a riadrizzarla perché essere andati in svantaggio, ripeto, in un momento così complicato non era facile. Secondo me abbiamo provato a reagire da squadra e abbiamo avuto dei minuti in cui eravamo in grande crescita. Poi comunque ci siamo un pochino appiattiti, ma è normale, anche se c'è stato un grande dispendio di energie e adesso cercheremo di dare il massimo. Stiamo cercando di fare il massimo tutti, nel senso di andare dietro a quello che ci chiede il mister. Non è facile, stiamo lavorando su tanti concetti, il mister è molto preparato, ci dà diverse soluzioni e speriamo di essere pronti il prima possibile a eseguire la lettera a tutto ciò che ci chiede. Devo solo ringraziare la gente di Bari perché mi hanno sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili che quest'anno comunque ne ho passati diversi. Mi sono sempre stati a fianco, mi hanno sempre incitato e posso solamente dire grazie a loro. Grazie a tutti.